Nella frazione La Traversa di Campli dal 21 al 24 giugno torna la rassegna dei prodotti tipici camplesi e la festa delle fregnacce. Sì, torna questa iniziativa molto importante grazie all'associazione La Traversa, appunto in località La Traversa. Tra l'altro un posto strategico perché sta sulla terra muasco e quindi facilmente raggiungibile anche con la nuova strada che da poco abbiamo inaugurato. Questo piatto è stato riproposto dal comune insieme all'associazione qualche anno fa e si raggiunge ai tanti prodotti tipici che abbiamo, quale la tartufa, la porchetta, il timballo. Quindi invito tutti a venire a questa splendida iniziativa che si concluterà domenica, che c'è anche il pranzo e c'è anche un'iniziativa sportiva la mattina con la corsa di bici e una passeggiata organizzata appunto dai Monti Gemelli Bike. La riscoperta delle fregnacce si deve all'attuale assessore agli eventi del comune di Campli, Mariangela Vanni? Sì, era un piatto tipico della mia famiglia. Io vivevo in una famiglia patriarcale e le fregnacce che faceva mia zia, che tra l'altro erano a cuoca di paese, quella che faceva i pranzi nuziali eccetera, una volta non si andava al ristorante, la domenica proponeva o gli gnocchi o le fregnacce o il brodo di gallina con i tagliolini. Questi erano i piatti un po' tipici della mia famiglia perlomeno. Le fregnacce che faceva mia zia erano bianche, nel senso che lei macinava al momento il pepe nero e il pecorino buonissimo che avevamo in casa allora. E quindi mi sono ricordata di questo piatto e ho detto bisogna rilanciarlo perché era un po' sparito dalle nostre tavole. Quindi durante uno show cooking tre anni fa io ho avuto l'ardire di ammassare queste fregnacce, come si faceva una volta, ho usato il setaccio passando la farina eccetera eccetera. e sono orgogliosa e mi fa piacere che poi questa cosa non sia morta lì. Cos'altro si potrà degustare? Si possono degustare anche spiedini, salsicce, formaggio fritto e ci tengo a dire questa cosa che sono prodotti a chilometro zero perché? Perché tutti i prodotti che vengono fatti localmente praticamente ma veramente lì in zona. In particolar modo il formaggio fritto perché la collina sopra c'è un caseificio dove le mucche pascono lì in zona e ci fa questo formaggio che è buonissimo. Le frittelle, sia semplici, farcite col prosciutto e il pezzo forte le frittelle con peperoni e sarde fritte che è una specialità. Dico che le fregnacce sono due anni che è il nostro primo piatto. Prima delle fregnacce praticamente le nostre frittelle che erano il piatto, diciamo, la chicca di questa sagra. Anche in caso di maltempo la manifestazione si farà perché è al coperto? Esattamente, vista la nostra sfortuna che ci ha colpito negli ultimi anni, siamo che la pioggia ci ha assistito abbastanza bene. Ci auguriamo che non faccia altrettanto quest'anno. Poi ci siamo attrezzati con una comertura abbastanza grande e quindi la manifestazione si farà ugualmente anche in case di pioggia. Speriamo di no.